Sabato 12 e domenica 13 giugno si vota per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo e in alcune località anche per elezioni amministrative. Questa volta per evitare eventuali disagi i cittadini avranno a disposizione gran parte del fine settimana. Si potrà votare sabato 12 giugno dalle 15 alle 22 e domenica 13 giugno dalla mattina alle 7 fino alle 22. Per esercitare il diritto al voto occorre presentarsi al seggio muniti di un valido documento d'identità e della tessera elettorale. Chi l'avesse smarrita può chiedere un duplicato all'ufficio elettorale del comune di residenza.